Marra, non sarà vice capo di gabinetto, giusto? No, siccome aveva detto al messaggero che ci rimaneva malissimo se non sarebbe stato nominato... Non ho capito, vale, scusami, non ho capito. Marra, non sarà vice capo di gabinetto, giusto? Marra, due secondi per capire se Virginia Raggi ha revocato la sua nomina. Sì, vado via, vado via.